Ok, noi che siamo live possiamo incominciare, diamo il benvenuto su Newfaces a due nuove Newfaces, uno è Francesco Bonanno e l'altro è Andrea Cartotto, che io ringrazio di essere venuti qui con noi perché introduciamo nel canale un dibattito molto interessante che tratta dei free software, open source, è un mondo molto interessante per le evoluzioni che ci sono nella società adesso. Comunque io lascio subito lo spazio ai nostri due ospiti per presentarsi, fare una piccola storia, una presentazione loro e niente, partiamo da Francesco. Ciao Francesco. Ciao Andrea, ti ringrazio anche io per l'occasione concessaci. Io sono Francesco, per chi non l'avesse già capito, sono il coordinatore del gruppo locale Sicilia di Free Software Foundation Europe e sono anche parte del Linux User Group di Palermo, il Free Circle, col quale abbiamo organizzato uno dei più grandi Linux Day d'Italia, come da qui a tre anni a questa parte. Sono un utente, sono un utente di Linux da almeno dieci anni se non di più e ho scoperto questo mondo quasi per caso quando fu con una vecchia rivista di Win Magazine dove pubblicizzavano la distro Mandriva, la ormai defunta Mandriva. Da lì non sono più tornato indietro. Andrea, presentati. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Io mi chiamo appunto Andrea Cartotto, sono un docente, coordino un ente di formazione, quindi un istituto che si chiama Istituto Formazione Franchi. Mi occupo di attività proprio di insegnamento in materia specifica di nuove tecnologie da più di dieci anni e in questo caso ho accolto con molto piacere l'invito perché rappresento ufficialmente la bella associazione Libre Italia. Libre Italia è di fatto la community italiana che riunisce tutti gli appassionati, professionisti, docenti, divulgatori in materia di software libero con particolare riferimento possiamo dire al software libero più noto con grande spendita a casa in ufficio a scuola che è LibreOffice. LibreOffice e inoltre sono anche uno dei pochi membri italiani di The Document Foundation che è un po' la casa diciamo internazionale di LibreOffice per dire che anche dietro a un software in realtà c'è molto di più. Parlo da tempo di software libero anche nelle scuole ai docenti, in realtà lo divulgo a tutti i cittadini, tutti noi abbiamo bisogno di ascoltare un pochino questi argomenti. Certo, sono argomenti molto importanti e infatti vi chiedo subito una spiegazione della filosofia del free software e dell'open source per capire come è nata questa idea e quali sono i suoi valori. Sì, facciamo rispondere Francesco a cui mi aggancio poi volentieri, prego Francesco. Allora, noi ci occupiamo di questo particolare tema, uno specifico dei limitrofi da tempo perché come Free Software Foundation Europe è l'associazione europea di riferimento del free software. Invece come lug locale, come Free Circle, siamo più verso il mondo Linux, quindi verso il mondo open source. C'è una differenza tra i due, dove il software libero rimarca più lo spirito etico dei diritti digitali, della ricondivisione, dei sorgenti, della modifica per la comunità, della possibilità di condividere le proprie modifiche, di divulgare queste modifiche, di analizzare il software che si sta utilizzando. L'open source rimarca più l'aspetto pragmatico, quindi più l'aspetto pratico di questa cosa, quindi l'utilità del fatto di poter leggere il software, di analizzarlo, di poterlo distribuire. Nonostante uno sia nato prima dell'altro, la filosofia del free software è nata prima della filosofia dell'open source. In ogni caso, sono complementari in alcuni casi più distanti da altri, ma oggi, come detto in altre occasioni, noi almeno preferiamo parlare di software floss, free ed open source software, per essere più inclusivi e non esclusivi. E quindi includere entrambe le comunità perché, specialmente del fatto che, purtroppo per fortuna, dipende i casi, ci rendiamo conto di essere una lobby su questo frangente, su questo tema, non ha senso dividere e spaccare la comunità in 5, 6, 10 mila pezzettini. E' piuttosto invece utile andare in sinergia e unire le forze. Oltretutto del fatto che molte persone scrivono software open source, usando licenze come la GPL, che in realtà sono licenze di software libero, quindi involontariamente o volontariamente scrive software libero, e il software libero non esclude il software open source, assolutamente. Andrea. Possibilità per chi ne ha le capacità di aiutare anche il vicino o l'altro utente, per cui anche a modificare, ancor più, un software, legandolo ai suoi bisogni. La libertà, diciamo, di aiuto, cioè una libertà di distribuire, e poi di pubblicare, usiamo dire, questa versione del software. Di fatto quattro libertà che possiamo riassumere come libertà di scelta e consapevolezza digitale. Nel caso dell'open source, che in effetti è divenuto sinonimo per certi versi, bella anche la definizione di floss per abbracciare un pochino un ambito più ampio, quello che c'è dietro al software libero è importante si capisca che è un qualcosa non di nicchia, non da nerd nella migliore accezione del termine, cioè non da utente squisitamente tecnologico già formato, e soprattutto che il software libero è inclusivo. Per trattare un tema estremamente attuale in questi giorni, nelle case degli italiani, in questi giorni c'è un grande consumo di strumento digitale e un grande consumo di rete. Perfetto. Se uno studente, piuttosto che un adulto, deve produrre un documento di testo, al di là della scelta che è sempre libero di fare, è chiaro che non si può imporre, né da un punto di vista governativo né da un punto di vista personale, l'acquisto, ad esempio, di una licenza di un software proprietario. Ma il software libero è la risposta proprio a questo bisogno. Io ho citato prima LibreOffice, lo rifaccio volentieri, mediante il sito internet di LibreOffice, nella casa di un qualunque cittadino italiano, è possibile scaricare ed utilizzare un software cosiddetto di produttività, cioè che va bene dunque per la casa, per la scuola, per l'ufficio, di qualità. Sfatiamo anche un pochino il mito, peraltro coerente Francesco su questo tema, so che è d'accordo con me, del open uguale gratis. Sì, c'è anche il fattore della gratuità, ma che non sia il primo stimolo. Il fatto di avere uno strumento di qualità gratuito è semmai un incentivo a conoscerlo, ad usarlo e a valorizzarlo, non a deprezzarlo. Come diceva il buon Stallman, free as his speech and not as his beer. Libero come le parole, il parlare, come qualcosa che dico, un discorso, non come una birra che mi viene regalata e mi viene fornita. Tant'è che abbiamo colossi del settore che invece fanno business sopra il software libero open source, vedasi Red Hat, che fornisce tra i più grandi partner IBM e Adobe. Anche se in realtà forse, giusto per correggere la nota, IBM mi sa che da un po' di tempo ormai ha acquistato Red Hat, ma questo è un altro paio di maniche. Però ad esempio Red Hat si è appoggiato a Linux per fare un po' il mercato. Assolutamente sì, e indipendentemente da quello che si crede, per quanto in ambito desktop una delle piattaforme più conosciute e più utilizzate per ovvie ragioni sono i sistemi Microsoft, i sistemi Microsoft Windows. In realtà nel buon direi 70-90% dei casi, tutto il sistema server, quindi quasi la totalità degli internet e dei servizi che ci sono in rete, sono su macchine, su server GNU Linux. Molti dei router, dispositivi in rete che utilizziamo hanno un kernel Linux a bordo, tutti i dispositivi Android al mondo, quindi tantissimi telefoni, cellulari, smartphone, frigoriferi smart, tutto quello che sia più o meno smart con Android sopra, ha un kernel Linux a bordo. Non è un sistema GNU, ma una buona componente di software libero che non avrebbe reso possibile altrimenti la creazione di un sistema mobile in maniera veloce, spicciativa e portabile quasi velocemente dovunque. Certo, che io poi ho visto che il sistema GNU e il sistema Linux si sono completati a vicenda, diciamo. La cosa è questa, nessuno aveva già in mente di fonderli, perché uno è un kernel Linux, GNU è il sistema, GNU è quello che vedi, applicazioni, interfacce e quant'altro. Linux invece è quello che a basso livello ti consente di mettere la chiave USB e fare sì che venga riconosciuta, che venga letta, che tu possa accedere ai vari dispositivi e ai vari hardware, tutte queste cose di qua. La community a suo tempo ha incontrato le due cose, avevano licenze compatibili, licenze di software libero e open source, le hanno fuse e così sono nati i sistemi GNU Linux, varie ed eventuali versioni salse e chi più ne ha più ne mette. C'è proprio l'imbarazzo della scelta oramai. Va bene, ok. Adesso vi chiedo un altro argomento della differenza che c'è tra il trattamento dati che ci può essere tra un software libero e un software privato. Come funziona il trattamento dati tra queste due realtà? Allora, diciamo, rispondo io, mi permetto in questo senso, perché è un argomento che in questo momento interessa proprio anche scuole, pubblica amministrazione e molte altre realtà. L'importante, torno su un tema a me caro, è la consapevolezza digitale. E purtroppo il grado di consapevolezza digitale in Italia in questo momento non è elevato. E mi permetto di osservarlo senza esibire in questo caso un dato, che possiamo andare a prendere in qualsiasi momento, perché i fatti ci trasmettono questo. Ci troviamo in un sistema informatico tecnologico dove agiscono grandi soggetti. Mi viene in mente, ad esempio, il soggetto Google. Ora, al netto della valutazione, poi, e delle varie implicazioni che Google possa o non possa avere, e del gradimento personale, Google, tra virgolette, è un soggetto monopolista de facto. Cioè, un soggetto, diciamo, che addirittura i bambini, se presi da piccoli, associano ad Internet, come sinonimo. Ma in realtà io posso accedere alla rete, la rete è neutrale per definizione, con un qualsiasi browser, e questo browser si può chiamare Mozilla Firefox, ma si può chiamare Google Chrome, e posso utilizzare un motore di ricerca, che non si chiami per forza Google. Però, mi piace dire che viviamo nel nostro tempo, quindi dobbiamo avere chiara quale sia la situazione. Un server, anzi, i server di Google, piuttosto che una realtà analoga, come possa essere Microsoft, processa questi dati, li digerisce, li cataloga, li archivia. Se l'utente, se il cittadino, è pienamente consapevole di questo, ed accetta quello che mi piace definire l'equo compromesso, diciamo che è nella sua libertà fare un certo tipo di scelta. Però, ci sono poi, invece, sistemi di software libero, mi viene in mente Jitsi, come piattaforma, mi viene in mente Big Blue Button, piattaforme che si utilizzano a base di software libero, e stimolano la condivisione, mettono a disposizione nostra, ad esempio in questo momento, possibilità di comunicare, trasversalmente, bene, di solito, nell'ambito dell'open source, e di questi strumenti di software libero, tende a non esserci, ad esempio, la profilazione dei dati, lo scambio dei dati su server, da e verso l'utente, è sicuramente più limitata, più illustrata, e più contingentata. C'è un motivo che non deve scantalizzare nessuno di noi, però è giusto sapere, che il software libero ha bisogno di marketing, però ha bisogno di marketing nel senso del saper comunicare il software libero. Non è un marketing finalizzato strettamente alla vendita di un prodotto, all'ingresso in un certo mercato, eppure è sempre marketing, perché marketing di fatto è comunicazione, ed è quello, Francesco potrà insomma intervenire in tal senso, che forse in alcuni anni nel software libero, insieme all'eccessivo frazionamento, è mancato. Proprio il saperlo comunicare. Per cui la trasparenza in questo caso, non so, la rispondenza al GDPR, per esempio, al regolamento europeo per le privacy, ed altri aspetti, ci inducono a ritenere che proprio alla base del movimento del software libero, ci sia una scelta etico-digitale sicuramente più forte. Scusatemi che nel frattempo una carinissima signora, mia nonna, mi ha portato della cioccolata, quindi devo vedere dove metterla. Comunque concordo pienamente con quello che diceva Andrea, un altro grande partner che mi viene in mente in questo momento delle community, le scuole e delle pubbliche amministrazioni italiane è Microsoft con Teams che è usato e abusato, secondo me, per certi aspetti, da università, scuole e quant'altro, perché manualmente chi si deve affidare a un servizio, a un software, solitamente si affida a gente del settore e big del settore soprattutto, ma come diceva Andrea, il problema non è tanto vendersi quanto pubblicizzarsi, ecco direi, comunicativamente parlando, proprio per questo, perché molta gente crede che il software libero o il software open source sia brutto, cattivo e inutilizzabile, cosa assolutamente non vera. Già, un gizzi che noi stiamo usando per comunicare ne è l'esempio, ma si potrebbe prendere qualsiasi distribuzione, sistema operativo basato su kernel Linux e sistema GNU, per renderci conto che visto che ormai anche in queste distribuzioni sono nel 2020, si sono modernizzate, hanno delle interfacce consone all'uso dell'utente, addirittura notizia di qualche giorno fa, KDE, uno dei maggiori produttori di sistemi desktop per i sistemi Linux, ha rilasciato una versione prettamente per le smart tv, cosa che fino a poco tempo fa probabilmente non sarebbe neanche stata pensata, concepita, ma perché semplicemente nessuno vedeva KDE come un sistema per le smart tv, invece ormai si arriva dal telefono plasma mobile fino appunto ai dispositivi come le tv, in realtà il software libero ci circonda usato in vari ed eventuali componenti, Google stessa sui telefoni Android piuttosto che altri utilizzano parti di software libero per i propri prodotti, vedasi per esempio il progetto FFMPEG che serve per la conversione dei video, dei filmati che è usato quasi dovunque, in ogni dove per la conversione dei formati, o LibreOffice stesso che viene usato in molti progetti per la sola conversione di un formato dal formato Microsoft al formato aperto e viceversa. Se posso Francesco proprio inserirmi su questo punto è quello dei formati che voglio introdurre, però ti passo direttamente la parola. Allora ringrazio Francesco che mi serve un assist mirabile per una cosa poco conosciuta che è importante diffondere. Parlava Francesco di software tra virgolette percepito come ora lui chiaramente l'ha esasperata però ha detto brutta e inutilizzabile è un po' il brutto e cattivo no? Calimero. Invece no. Vediamo un pochino dove invece risieda l'errore nella nostra competenza. Formati dei file. Ma cosa cambia un formato? Cos'è un formato? Un formato è il modo con cui tu conservi un ricordo. Proviamo a vederla in quest'ottica. Tutti tendono a voler conservare i ricordi. Il ricordo può assumere la forma di un documento scritto. Benissimo. Se utilizzo Microsoft Office che all'interno è il programma di videoscrittura Word nel momento in cui io clicco su salva con nome e non vado a come sto salvando salva in un formato proprietario che termina con la X il formato Doc X. Bene. Quel salvataggio ha già generato un'anomalia nella successiva diffusione apertura e scrittura di quel documento di quel ricordo. Il formato standard e standard vuole dire riassumendo di tutti è il formato ODF Open Document Format che è il formato nativo di Libre Office per cui anche per importanza non lo devi scegliere ma è già presente ed è un formato che si può assolutamente scegliere in Microsoft Word. La problematica è quanti utenti si pongono il dubbio per effettuare la scelta? Pochi rispetto al totale ma se io elaborassi un documento salvandolo come punto ODT Open Document Text io sarei in grado di far circolare nel tempo quel documento in lettura e scrittura cioè lo leggo e lo modifico sempre mantenendo intatta la filiera per cui c'è un errore tecnico concettuale se io in un ufficio pubblico creo un documento DocX lo spedisco ad un collaboratore o ad un collega un impiegato che lo deve aprire con il software che ha e può avere LibreOffice non c'è una pecca in LibreOffice nell'aprire il documento a DocX lo apre lo gestisce ma era nato A lo elaboro e rischio di farlo diventare B mentre è bene che la filiera rimanga assolutamente la stessa e che ODT nel caso del software proprietario tende ahimè a non essere la prima scelta ma è una delle scelte per cui con un click avremmo già generato una compatibilità è inter operabilità digitale ampia e per tutti ecco un esempio all'acqua di rose cioè che si riassume in un click che renderebbe tutto più facile anche per la condivisione dei dati e delle informazioni da un semplice ufficio all'altro assolutamente sì il discorso del formato aperto il discorso del formato standard il fatto che rimanga indipendentemente dal software che lo apra e non diventa bcz questo è il discorso e che quindi tu rimanga proprietario di quello che stai lavorando scrivendo qualsiasi cosa stia facendo col tuo software invece spesso e volentieri per dire la stessa suite di microsoft office tra alcune versioni è già incompatibile stessi formati perché i formati sono diversi cosa inconcepibile tant'è che tanti poi piano piano sono migrati al libre office per questo motivo come ad altri software che usano protocolli e formati standard tra cui per esempio e rimbalzo di nuovo la palla perché è interessante saperlo come progetto il ministero della difesa con libre defense ti rimbalzo la palla come no la prendo al volo perché libre difesa è un progetto che in qualche maniera ha la paternità lo possiamo dire di libre italia seguito da colleghi e dal team e dal direttivo di libre office di allora e l'attuale direttivo diamo un dato tanto per capire dici cosa si intende con libre difesa che il ministero della difesa attua e mette in atto una pratica di migrazione quindi di passaggio di cambiamento da software proprietario a software libero ok cosa cambia per il ministero della difesa nell'usare un programma piuttosto di un altro e c'è un cambiamento di fondo il cambiamento è che a regime quando era uscito un articolo anche su un portale tech economy su altri portali riviste ecco se il ministero della difesa a regime completa questo processo attualmente in atto si va a risparmiare a livello di sistema paese italia dai 26 ai 29 milioni di euro però cosa è stato fatto in questo caso se n'era occupato il generale camillo sileo figura un po' di raccordo tra forze armate e libre italia che prima di fare un'azione del genere era stata compiuta una mossa di grande buonsenso una indagine dei bisogni operazione che si può fare in qualunque pubblicità amministrazione in qualunque contesto vediamo in percentuale quanto sfruttano un software proprietario i miei utenti perché se viene fuori che utilizzano un software proprietario per una percentuale x allora è opportuno pensare che facciano le stesse cose con software libero di qualità chiaramente con adeguata formazione perché se io do in mano un prodotto o un oggetto così svalorizzandolo di fatto tieni usalo ho sbagliato l'approccio ho sbagliato l'approccio progetto liber difesa tuttora in opera è estremamente interessante ed è stato ed è tra i progetti più significativi a livello europeo quindi è estremamente interessante citarlo se posso Francesco e quindi anche Andrea a tal proposito volevo segnalare ai nostri ascoltatori che il discorso della scelta del software libero non è pura scelta di gusto ma è divenuto un obbligo di legge in Italia esiste un documento un pezzo di carta elaborato da Agid l'agenzia per il digitale che è il codice dell'amministrazione digitale valevole in soldoni per le scuole per i pubblici uffici per gli enti pubblici e così via senza scorrere perché altrimenti diciamo che in questo caso la nostra diretta la nostra chiacchierata si protrae per ore e giorni diciamo però che c'è un articolo che è il numero 68 che si chiama analisi comparativa delle soluzioni detto così sembra legalese ma come mia abitudine mi fa piacere spiegarlo al nostro pubblico con poche parole benissimo se io dico ad uno studente o ad un impiegato fammi un powerpoint sto già contravvenendo questo articolo 68 perché invece che chiamare le cose per categoria le ho chiamate per nome di prodotto e allora io posso banalmente dire fammi una presentazione a quel punto tu impiegato tu studente tu docente fai proprio in un attimo la valutazione comparativa sempre in parole povere devo scrivere un documento ok con quali software lo posso fare Microsoft Word ok è un software proprietario Libre Office Writer ok è software libero l'analisi comparativa mi dice che se c'è software libero che può fare una determinata cosa io lo devo scegliere perché è scelta preferenziale non diventa più una scelta di gusto mi piace non mi piace nel contesto pubblico nella propria abitazione se un utente è consapevole vuole fare un investimento vuole acquistare a pagamento un prodotto proprietario perché lo gradisce ma ben chiaro cosa fa questa libertà nessuno la tocca ma nel pubblico e nella pubblica amministrazione è importante la consapevolezza digitale anche da un punto di vista economico certo volevo chiedere una cosa che abbiamo messo tante cose c'è tanta carne al fuoco volevo chiedere due chiarimenti su il discorso magari che ci attacchiamo al al Libre Office del hai detto che era il ministro del della difesa Libre difesa si ha visto interessato il ministro della difesa e il punto di raccordo all'interno delle forze armate è stato il generale Camillo Sileo ok ma la domanda che mi viene siccome adesso anche con quello che stiamo passando col coronavirus molte scuole stanno usando i software proprietari tutte queste cose qua che guadagno avrebbe il sistema stato il sistema scuola a utilizzare questo tipo di software libero ad esempio per capire i dati degli studenti invece di finire in un software proprietario finirebbero in un software libero sarebbero ad esempio un po' più tutelati da questo punto di vista decisamente il discorso è quello che producevamo l'altro giorno sulla base del ed è anche purtroppo uno dei meccanismi di escamotage del del CAD del codice di amministrazione digitale molti enti molte amministrazioni non si affidano a un software ma si affidano a un servizio quindi il servizio è esterno fornito come piattaforma sul web piuttosto che con qualche altro software che si interfaccia al servizio ma è un servizio quindi molte scuole si interfacciano per dire a Google come servizio molte scuole hanno la gestione le caselle mail dei gli strumenti di servizio e quant'altro come servizio e come risolvi il problema secondo me con un tema a me molto caro nel quale parlo spesso e volentieri nel quale parliamo spesso e volentieri nella sede locale dove io ho la fortuna di avere come sede del gruppo locale una scuola a Caltanissetta dove mi hanno accolto e ci hanno accolto in maniera abbastanza entusiasta è l'alfabetizzazione digitale quello che manca considerevolmente seriamente a questo paese è un programma serio di affabetizzazione digitale tutto quello che riguarda il sistema scolastico per far sì che un cittadino arrivato all'età di poter votare di poter decidere di poter fare parte attiva di questo paese possa farsi riconoscere in maniera non dico ferrata quanto un esperto ma pressoché utile i servizi che sta utilizzando come diceva bene il buon Andrea molta gente categorizza l'accesso a internet con il software col servizio che utilizza facebook google e simili youtube e molta gente infatti dice non ho facebook no non hai l'accesso a internet in quel momento non è che non hai facebook questa cosa si risolverebbe molto se i cittadini venissero formati all'affabilizzazione digitale in maniera seria perché per esempio il trattamento dei dati personali a scuola noi abbiamo messo un'istanza di big blue button che loro forniscono agli studenti e i docenti come servizio ma gestendo direttamente loro la piattaforma la gestione dei dati personale è interna non viene diffusa a dati a terzi i dati a terzi non arrivano però in quel caso ci sono le competenze per poterlo fare quindi sì il discorso è che stesso e volentieri per quanto non è una cosa da demonizzare come diceva in altre occasioni il buon Andrea è più comodo affidarsi un servizio terzo google facebook microsoft piuttosto che affidarsi ai servizi interni ma scusa Francesco ti lascio subito proseguire così lascio una suggestione ai nostri ascoltatori la questione è che in Italia degli esempi di valore ci sarebbero ci sono a cui prendere a cui fare riferimento da cui prendere spunto il progetto FUS F-U-S-S Bolzano seguito tra gli altri dall'amico Paolo Dongilli progetto premiato ha interessato l'intendenza scolastica italiana cioè a Bolzano l'intento di FUS era ed è stato dal 2005 quello di creare un sistema quello che diceva Francesco era un'educazione sistemica dall'hardware ciò che si tocca al software ciò che si usa alla formazione ciò che si impara a Roma Roma capitale d'Italia assessore a Roma digitale è stata perché ora purtroppo non lo è più la professoressa Flavia Marzano stimatissima docente ed esperta di software libero e non solo cioè ci sono pedine nevralgiche in taluni contesti mi viene in mente Italo Vignoli all'interno della comunità di LibreOffice ma Italo Vignoli è considerato diciamo una leggenda come direbbe il mio amico Giordano Alborghetti cioè ci sono dei punti a cui fare riferimento e cose da leggere cose a cui ispirarsi sei d'accordo Francesco assolutamente sì quello che volevo spiegare agli ascoltatori o a chi fruirà il contenuto video perché quello alla fine sarà è il fatto che semplicemente per molte amministrazioni è più comodo usare terzi come servizi per via delle conoscenze ma assolutamente il software libero permette in varie ed eventuali misure sia perché utilizza sistemi standard formati standard e protocolli standard sia perché molto spesso permette di avere indoor dentro le mura dentro il proprio giardino il software che si sta utilizzando un controllo molto più dettagliato e molto più sicuro dei propri dati e quindi e soprattutto tra le varie ed eventuali il fatto che il codice sorgente sia disponibile fa sì che io possa vedere come quel software tratta i miei dati cosa che con un software proprietario tu non puoi fare se tu cerchi il codice sorgente di Teams di Microsoft quello non lo trovi ti devi affidare al fatto che quei dati vengono trattati in una certa maniera se tu cerchi il codice sorgente di Jitsi piuttosto che di BigBlueButton lo trovi puoi vedere come viene trattato ogni singolo pacchetto in trasmissione puoi vedere come vengono stipati e come vengono scritti e conservati i tuoi dati nel server dove c'è quella installazione quindi è molto più ampio lo spettro la libertà è molto più vasta ok vi chiedo un'ultima cosa poi direi che come chiacchierata abbiamo messo tanta bella carne al fuoco che rende il video molto interessante quello che mi viene da dire da dedurre più che altro che se lo Stato offrisse da sé il servizio senza esternarlo facendo leva su il software libero ci sarebbe sicuramente una tutela maggiore dei dati da parte per i cittadini ma poi magari ci potrebbe essere anche quello che potremmo considerare un monopolio naturale dei dati dello Stato che però sono sotto software libero quindi ogni cittadino potrebbe controllarne l'utilizzo che non finisca per forza in mano a privati che poi ci fanno gli studi di settore che vogliono ma lo Stato volendo potrebbe sia tutelare i cittadini sia avere un monopolio da parte propria tecnicamente c'è già anche l'organismo per fare questo perché noi abbiamo un'agenzia per il digitale governativa abbiamo l'agid che stila le linee guida ci vuole probabilmente coraggio e il ragionamento per mettere in atto questo è un ragionamento mi permetto di dire che si stratifica su più piani amministrativo chiaramente un piano politico chiaramente un piano anche tecnico ci sono tre o quattro stati che si devono parlare a questo punto nel momento in cui questi tre o quattro stati si parlano allora con la volontà è possibile e facendo quello che ha detto bene Francesco prima cioè attuando un meccanismo virtuoso sistemico di educazione digitale a quel punto è il cittadino che mi viene a chiedere di usare lo strumento digitale perché è facile è accessibile lo usano tutti lo desidero usare anch'io non sono io a ricevere uno strumento e poi a chiedermi cosa me ne faccio poi come dicevano prima in separata sede poi ovviamente il fatto di adottare software libero o meno il fatto di avere sistemi computazionali interni nello stato o meno dipende sicuramente dalle conoscenze e da qualcosa del quale io non sono così a fondo da poterne avere conoscenze come tanti altri di ovviamente sistemi commerciali partner commerciali che preferiscono prediligere e indirizzare un cliente nel caso lo stato più verso il software proprietario o il software libero sicuramente e senza dubbio però anche per questo nessuno si sognerebbe mai di esternalizzare l'analograficazione del resident che è quella che tiene tutti i nostri dati anagrafici che ormai è a Roma al ministero degli interni ed è tutta digitalizzata che è quella che poi ci permette il rilascio delle CIE le carte identità elettroniche quindi bisogna anche valutare i singoli casi però io concordo perfettamente con un'affermazione di Stallman che dice che il sistema di calcolo statale dovrebbe essere statale dovrebbe esserci la computazione di stato tutto quello che afferisce allo stato dovrebbe essere possibile essere fornito e messo su dallo stato ovviamente per vari eventuali motivi specialmente in Italia e piuttosto in altri paesi questa cosa è molto problematica ma sicuramente la gestione dei dati di cittadini in questo esempio piuttosto di qualsiasi altro dato di privacy o più o meno essenziale o più o meno di credibilità scientifica o meno sì è giusto che secondo me venga computato direttamente dallo stato perché lo stato deve e può darti certe garanzie un terzo può dire magari può falsare i dati a seconda di a seconda dei propri interessi su milioni e milioni di dati numero in più numero in meno chi può confutare chi può verificare il contrario invece lo stato ti garantisce in quanto cittadino e non è poco dovrei dire va bene io ragazzi direi che questa chiacchierata la possiamo concludere qua perché ci sono un sacco di informazioni vi ringrazio di essere stati nostri ospiti scusate un po' l'emozione non sono ancora abituato a parlare con un computer in prima vista e niente va bene ragazzi se il video vi è piaciuto condividetelo iscrivetevi al canale mettete like alla pagina e speriamo di proseguire questo dibattito con nuovi ospiti sempre molto interessanti come sono stati Francesco e Andrea io vi ringrazio ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima grazie a te Andrea grazie Andrea ciao Francesco un saluto agli ascoltatori un saluto a tutti ciao ciao